ciao a tutte buon mercoledì allora sono state lanciate delle nuove promozioni e io ovviamente sono qua per spiegarvele sono un po stanchina scusate si vede da questo faccino che non sono creschissima però allora c'è una promozione che dura solo fino al 22 di ottobre stavo andando indietro e fa parte di una linea che è già in promozione e che anch'essa scade il 22 non li ho da farveli vedere non ci crederete ma li ho tutti a lavare perché ho pulito i vetri e li ho tutti a lavare e sto parlando esattamente di loro i nostri fantastici panni vetro sono in promozione il set da due ad un prezzo piccolissimo e quando ci sono queste promozioni bisogna fare scorta perché poi arrivate ma quando vanno in offerta i panni vetro non lo so io quando vanno in offerta però quando ci sono prendeteli metteteli via regalateli anche per natale perché fidatevi che sarà un regalo veramente molto molto gradito allora i panni vetro ve ne ho parlato un miliardo di volte ve li ho anche fatti vedere in uso a pulire lo specchio del bagno da burro rossetto crema per il corpo tutti i prodotti grassi e dai video vedete che vengono pulitissimi nonostante i miei panni siano molto vecchi come sapete i panni sono in microfibra riciclata si possono lavare o a mano con sapone di marsiglia o in lavatrice massimo 60 gradi senza ammorbidente no asciugatrice no esposti al sole all'aria tanto si asciugano in fretta si utilizzano solo ed esclusivamente con acqua calda niente vetrilla niente ro niente solo acqua calda ben strizzati e piegati in quattro non arrotolati in mano come si fa di solito e si usano o in verticale o in orizzontale quando li utilizzate per la prima volta e fino a quel momento avete sempre utilizzato prodotti appunto per pulire i vetri farete fatica a tirare dietro il panno questo perché perché quei prodotti voi pensate che lucidano i vostri vetri invece li ingrassano di più quindi il primo passaggio toglierà tutto quel deposito di detergenti che voi avete utilizzato sciacquerete il vostro panno sempre con acqua calda lo strizzate bene e ripassando una seconda volta noterete la differenza non c'è bisogno di asciugare di ripassare nulla perché non lascia ne alloni nei pelucchi e è fantastico il panno vetri lo potete utilizzare per vetri per specchi per quadri per i vetri della macchina per i piani induzione vanno benissimo sono veramente eccezionali per cui adesso che sono in promozione dovete fare scorta mi raccomando ricordatevi che sempre il 22 scadono anche tutti gli altri sapete che c'è la possibilità di avere il panno pavimenti panni multiuso e gli asciugapiatti o singoli set oppure tutto il set insieme che andate a risparmiare aggiungete anche il panno vetri attivate la vostra tessera diventate clienti privilegiati su tutti questi prodotti andate a risparmiare ancora di più io adesso vi saluto ma torno perché ho tante tante altre cose da spiegarvi di cui parlarvi ciao grazie grazie